Mago Reginaldo. Data di nascita? 15 luglio. 15 luglio allora, ti tesiè del segno della Moeca. Bravo, fortunato perché il 2023 è proprio l'anno della Moeca. Scusi la devo salutare. Buonasera Mago Reginaldo. Ma porti con senza, ma che segno è il segno della Moeca? Dai, cosa sto dicendo? Come cosa sto dicendo? Che abacca! Che abacca! La Moeca! Ese è un segno dell'antico oroscopo veneto. Tramandato da Mettris Nonno, l'astrologo Reginaldo I da Porto Gruaro, ambasciatore onorario della stirpe dei conti Barucconi del Martellago e Portetogli. E se basa sull'allineamento dei pianeti con i paesi veneti. Ma non sapete roba? No, non lo sapevo. Ma forza, guarda adesso l'Italia è solo a guardare tette e culo. Allora, a differenza dell'oroscopo tradizionale, qua si va mese per mese. Per esempio, chi è nato in gennaio, dal momento che Venere è allineato con Anguillara, è il segno del sgombrio. Chi è nato in febbraio, siccome che Plutone si è allineato con Mirra, è il segno del segno della sarda in Saor. Marzo, Mercurio è allineato con Piovene e Rocchette, e quindi Marzo è il segno del baccalà manteccato del Monteccio. Aprile è Marte allineato con Creazzo, quindi è il segno del broccolo fiolare. Maggio, nato sotto il segno del broccolo, nato sotto il segno del broccolo fiolare. E' il coletto che fa quel fiolare. Maggio, Saturno si è allineato con Misurina, quindi il segno è quello del mais sponcio di Cadori. Giugno, Urano si è allineato con Monteforti, quindi il segno è quello della Verza Moretta di Verone. Meraviglia, meraviglia. La Verza Moretta. Vado a toccare una discoteca. Ciao, di che segno ti sei? Sono della Verza Moretta. Luglio, Mercurio si è allineato con Costa Bissara. Quindi il segno è quello della Moeca. E Stano è proprio l'anno della Moeca. Agosto, Clutone e Mercurio allineati con Vigo d'Argere. Quindi il segno è quello dei fasoli balini del feltro. Canti la bella stroppa del disco. Di che sei o ti sei? E gli fai sui balini del festo. Che figata. Settembre, Saturno e Urano si è allineati con Boara Pisani. Ah, Boara Pisani. Sì, sì. Quindi il segno è quello dei bici dell'Humignan. Il bici? Ma dove vanno? E così? Vabbè, il bici... Andiamo con l'ottobre, se la finiamo più. E che sei o ti sei del bici dell'Humignan? A se vede dal carattere che ti... Ottobre. Ottobre. Dicembre delle pere della Norina. Dicembre. Dicembre. Nettuno si è allineato con nessuno. Ah, nessuno, no? Quindi il segno è quello del Gran Sipare. Il segno del Gran Siporo. Allora, l'anno scorso già era quello del Gran Siporo. Sì. Stacca e me sarà quello delle pere della Dorina. Ah, vedi, vedi, vedi. Alessandro D'Acazzano le chiede mi potrebbe prevedere l'anno essendo sgombro? Allora, prevedo tanti traslochi. Sgombro dice la parola stessa. Bellissima. Posso domandarti di che sei o ti sei ti? Eh, le pere, perché sono novembre. Ah, novembre. Sì. E che altro? Giugno, giugno. Che altro Occomarino? Giugno, giugno. Della Versa Moretta, della Moranella. Complimenti. Segno di tanta fortuna. Ah, grazie. Ciga Versa, la fortuna. Grazie, grazie. Saluto tutte le stroppe del segno della Moeca. Ecco, vedi, grazie. In collaborazione con Oxygenia. Acqua arricchita d'ossigeno. Autozai. Agenzia matrimoniale. Subito amore. Vignola termoidraulica. Lucanoleggiopiattaforme.it